Buongiorno, sono Alexandro Giorcagis, sono un artista anticipo. Questo è il mio lavoro che si intitola Centreness. Rappresenta un messaggio e un ricordo di tornare al proprio centro. È ispirato da una ricerca più grande di un altro lavoro che si intitola Vibrational Ego Trip, dove presenta in diversi livelli di consapevolezza dalla unità verso il più alto e la divisione verso il più basso, verso le espressioni basse. Quindi questo lavoro è una semplificazione di quella ricerca, di quel messaggio e di quel ricordo di tornare al proprio centro. È un grande piacere essere qui. Il tema del padiglione Nemo Profeta in Patria come ho studiato in Italia. Nel 2007 ho vinto il premio nazionale delle arti. Poi nel 2011 ho avuto il grande piacere di essere nel padiglione delle accademie, col padiglione d'Italia a Venezia. E questa è una nuova occasione di essere qui in questa esposizione, al padiglione Camerun, con il titolo Nemo Profeta in Patria.